Buongiorno a tutti, ormai sapete benissimo che quando faccio questa sorta di intro con questo sfondo è perché sto andando da qualche parte e ovviamente sfrutto il bellissimo sole che c'è in Napoli perché oggi è una giornata stupenda e oggi c'è l'incontro delle ore selvagge dopo l'ultimo è stato a Beltane quindi sono emozionatissima e sarà un incontro pubblico quindi ci saranno tantissime persone che mi hanno già scritto oh sto venendo apposta per te voglio conoscervi voglio vederti eccetera eccetera quindi sono stra emozionata ho già ricevuto un messaggio stamattina da una ragazza carinissima che ha scritto che stava venendo appunto a Napoli per me quindi andiamo io ho bisogno di veramente un grande bocca al lupo perché sono tipo ansiosissima e vediamo un pochino e vediamo un pochino come se il nostro corpo volesse agire automaticamente sviluppando movimenti che razionalmente non avremmo mai nemmeno immaginato oppure durante l'organizzazione del rituale un particolare distallo di... ma sono bellissimi ma dobbiamo fare gli... ma la prossima volta facciamo un incontro a Londra guardate quanto sono... ma si vengo subito... è meno comodo grazie a tutti e niente l'incontro è finito però guardate comunque quanti ci siamo ahahahah ahahah 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 ciao 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 ciao